E' stato sicuramente un punto di arrivo ma anche un punto di inizio ed era una cosa che ho sempre voluto fare di cercare di portare la musica il più possibile a trasformarsi in immagine e quindi mi sono, diciamo, l'ho scritto il film e anche le musiche proprio per cercare di unire il più possibile due cose e poi umanamente devo ammettere che essendo il processo di un film bello complicato mi ha un po' cambiato perché sì, perché non sono più quella di prima del film, perché umanamente è molto complesso dare forma poi fisica una cosa così che non dipende solo da te, come può essere magari la musica. Ora questa sera allo Sherwood sono venuta con la band e gran parte del tour è con la band ovviamente il concerto con l'orchestra è molto emozionante, è anche diversa la scaletta, è abbastanza diversa diciamo che ci sono degli arrangiamenti sinfonici, orchestrali che riescono anche a tirare fuori degli aspetti delle canzoni che invece sono più urban, pop e invece vengono più a gala degli aspetti più melodici, più epici diciamo. No, è una figata, io avevo già fatto un concerto otto anni fa con l'orchestra sinfonica giovanile di Roma e non avevo ancora però tutto questo nuovo repertorio di bingo però è una cosa che... non lo so, a me non mi interessa molto il vestito che uno può dare alle canzoni nel senso mi interessa... cioè non sono affezionata troppo al vestito tu gli cambi vestito e le canzoni comunque dicono la loro, quindi è molto divertente vederla in quell'ottica. secondo me siamo ormai, dai, in un'epoca in cui quel luogo comune per cui le donne si fanno la lotta tra di loro secondo me è bello che è superato, almeno io la penso così quando ero più piccola, più adolescente avevo più amici maschi che amiche femmine si vede che, boh, forse non sono l'unica crescendo mi sono resa conto quanto invece la condivisione e veramente la sincera condivisione di tutto quello che vivevo di tutti i miei problemi, se fatta con delle amiche diventava spesso risolutiva quindi, cioè insomma una condivisione che poi mi portava a risolvere quello che mi premeva e quindi sì, i disperi vanno sempre d'accordo è una frase che dice Elio nel film è l'unico alleato delle protagoniste e vuol dire sì che bisogna conoscersi prima di giudicarsi forse è una banalità però sì, in generale tutto Gloria racconta di un gruppo di ragazzi che cercano di salvarsi e lo possono fare solo insieme perché poi la musica si fa insieme quindi di limiti autoimposti ce ne sono a bizzeffe in tutti gli ambiti ora poi io perché mi occupo di come dire espressione espressione in generale artistica però forse ecco ne parlavo oggi con il mio direttore di palco Manostasio l'idea adesso di vedere che ci sono veramente sempre più artiste in classifica io ti giuro che è una cosa che proprio mi gasa, mi gratifica so in piccolo di aver fatto un po' anche parte di questo, cioè di averlo voluto e quindi ora che effettivamente vedo che ci sono sempre più ragazzi anche che scrivono ma comunque anche abbastanza, almeno quest'estate ci sono un sacco di artisti in giro è una cosa che mi dà molto gusto e quindi devo ammettere che forse è un limite che mi sono che insomma è una cosa in cui sono cambiata e che veramente sono felice per le altre non so come dire come ti parli quando mi abbracci ti sento bene già mi chiesci ballo come fossi un cast tutti che mi fanno i balli sento solo te non so come ti sento solo te a me sento solo te a me mettere ti sento solo te insomma